Come da tradizione oggi una mattinata anche a Modica dedicata alla commemorazione dei defunti con la cerimonia al cimitero comunale e al cimitero monumentale di Modicalta, ricordati poi caduti in guerra e alle vittime dell'alluvione. Depositata la corona con benedizione di padre Antonello Abbate e momento di preghiera. Oggi per la chiesa è un momento molto particolare perché intanto accomuniamo, mettiamo assieme tutti gli affetti più cari per i nostri cari. E questo è anche un momento di comunione per noi credenti perché mettere assieme i lutti e anche la speranza nella risurrezione diventa per noi un momento di grande comunione. E quindi è giusto in questo luogo che per la chiesa rappresenta il luogo dove i nostri cari stanno semplicemente dormendo in attesa della risurrezione. È giusto che onoriamo questo luogo dove li abbiamo deposti in attesa di questo giorno bellissimo. Purtroppo però, come era facile prevedere, anche l'amarezza da parte di chi non ha potuto lasciare un fiore sulla lapide dei propri cari perché si è visto l'accesso bloccato da delle transenne. E la situazione che si è registrata in alcuni colombai nella parte vecchia del cimitero che restano interdetti al pubblico perché pericolanti. Per questi sfortunati cittadini l'unica soluzione è stata quella di pregare da lontano, magari lasciando un fiore proprio sulle transenne. È vero che nelle spoglie mortali dei nostri cari noi abbiamo il ricordo terreno dei nostri cari perché nel corpo li abbiamo conosciuti, li abbiamo sperimentati. Però è anche vero che poiché la morte comunque crea una vera separazione, l'unico modo per raggiungerli è la preghiera. È uno schifo praticamente, più brutto di com'è come possiamo fare, come ci dobbiamo andare a portare i fiori, li guardiamo così almeno una volta all'anno che veniamo. Cosa chiedete a chi di dovere per fare qualcosa? Chiediamo almeno che si costruisse questa cosa, che si finisse, così non ci può andare nei nostri cari. È una cosa che non funziona così per me. Ormai qua è tutto all'abbandono. Non è giusto. Vanno dall'altra parte, là sì è bellissimo, ma ormai quelle che siamo qua, sono qua come dobbiamo fare. Non è che li possiamo trasportare. È un peccato ormai che abbiamo speso dei soldi per metterli qua, ora dobbiamo spendere gli altri per metterli là. Ma non è giusto secondo me. Si dovrebbe fare qualcosa al più presto, penso, perché oggi è la giornata dei morticini. Se non ci andiamo oggi, che è la giornata sua, quando ci dobbiamo andare? E poi abbiamo trovato questo schifo. Ci dispiace tanto. Penso che anche questi defunti hanno il diritto di essere visitati. Tentiamo di mettere i fiori qua, ma spero che al più presto provvederanno. E io mi dispiace tanto, perché c'è la mamma, c'è troppo. Quest'anno c'è questa novità, non possiamo fare niente. Speriamo che tutto si risolve. Cosa si sente di chiedere a chi di dove è? Chiedo che risolvano lei, che io ho una mamma, una figlia e ho il diritto di... di visitarli. Ma in effetti c'è circa un 6-7 mesi che è così chiuso. Io non lo so di preciso. perché... però ora per i morti non è giusto così. Giusto? Alcuni li hanno aperti. Questi sono quelli proprio in una situazione che per sicure... Io non rischio, perché io ci volevo scendere. Però se poi succede qualcosa, come si fa? Dal comune intanto fanno sapere che anche dopo il recente sopralluogo da parte dell'assessore Lurefice, accompagnato dai consiglieri Carpentieri e Cavallino, che hanno preso contatti con la società responsabile e che è necessario trovare un accordo per poter agire, accordo che non è ancora stato trovato. L'ente sta tentando, infatti, di pattuire con la società provvedimenti da intraprendere. I cittadini intanto chiedono che qualcosa si faccia il più presto possibile. Per alcuni rimane la speranza di poter l'anno prossimo recarsi, come è normale che sia, a donare un fiore ai cari defunti, non lasciandolo sulle transenne, come è avvenuto quest'anno, ma direttamente sulla lapide.